Musica Ben trovati con la nostra pagina sportiva, in primo piano il calcio con la Lucchese, sentiamo l'analisi della gara contro il Cesena a cura di Egidio Conca. La Lucchese ha giocato una buona gara ma il Cesena ha sfruttato al meglio le occasioni che ha avuto. Così il mister Gorgone ha fotografato la sconfitta maturata sul campo della capolista romagnola. E in effetti nel primo tempo i rossoneri hanno tenuto botta al cospetto dei quotatissimi bianconeri che pure ad inizio match non hanno sfruttato un'occasione colossale con Spendi, bravo comunque Chiorra ad opporsi alla conclusione della punta albanese. Passato il pericolo la Lucchese per lunghi tratti si è fatta addirittura preferire nel palleggio a centro campo, costringendo i padroni di casa molto spesso a difendersi e limitando le occasioni da rete dei Cesenati. Quello che manca ai rossoneri si sa è la capacità di raccogliere in proporzione a quanto si semina. In più a Cesena è arrivato anche l'infortunio a Tiritiello. La difesa rossonera ha accusato in maniera evidente l'assenza del capitano e così è arrivata la prima rete dei bianconeri con una deviazione sottomisura di Pieraccini al termine di una mischia in aria rossonera. La Lucchese ha reagito chiudendo il Cesena nella propria metà campo ed è arrivata anche l'occasione del pareggio sul piede di Russo che stavolta, a differenza del match contro Lentella, non ha azzeccato la zampata vincente. Le due reti in contropiede del bomberino Spendi hanno regalato ai padroni di casa una vittoria dalle proporzioni francamente immeritate. Dobbiamo crescere, ha detto alla fine Gorgone, ma l'unica strada che conosco per migliorare è il lavoro sul campo. Quindi, ha concluso il mister rossonero, ci torneremo ad allenare consapevoli di cosa possiamo correggere per fare meglio. Per Tiritiello si parla di un problema all'adduttore. Domani sono in programma i controlli e quindi si conoscerà l'entità dello stop per il difensore rossonero. Veniamo alla serie D, l'analisi dell'ultima giornata affidata a Roy Lepore. Il Seravezza-Pozzi in trasferta a San Giovanni Valdardo ha ottenuto un'importante vittoria per 2-0 grazie alle reti di Camarlinghi al nono del primo tempo e poi al raddoppio di Brugognone. Un gol da favola. Terza vittoria e quinto risultato utile per i versigliesi che hanno espugnato il Fedini archiviando la pratica già nel primo tempo. Sono secondi in classifica a tre punti dalla capolista pianese. Il Real Forte Querceta al Necchi Balloni con il Montevarchi finalmente conquista una vittoria per 3-2 che serve per la classifica ma soprattutto per il morale. È Vietina che per i locali sblocca il risultato. Pareggio su rigore di Priore. Poi addirittura il vantaggio ospite con Pardera. È Podestà poi su rigore propiziato da Vanni entrato dalla panchina che trova il 2-2. E al 95esimo l'esperto attaccante Vanni fa esplodere il Necchi Balloni conquistando tre punti importanti per i suoi. Comunque polemica nei confronti dell'allenatore. Non è da escludere che Vanni vada via. Il tau calcio fuori casa ospite del Trestin ha pareggiato 1-1. È Antoni che porta in vantaggio i ragazzi di Simone Venturi che si fanno raggiungere da Dinolfo nella ripresa. Due Regni colpiti dagli Umbri ma anche il tau sfiora il raddoppio con Bernardini. Ghiviborgo al Carraia con l'Orvietana è stato bloccato sul punteggio di 1-1. Al 15esimo padroni di casa in vantaggio con Carli. Il pareggio degli Umbri al 31esimo con Marsili che nella ripresa colpisce una traversa. Per la squadra di Nicolelli è il primo pareggio stagionale. Nel finale spulso Manoni per l'Orvietana. In eccellenza Camaioli arriva il Pieve 3-0. Tutto Cuoio Massese 1-0. In promozione Viareggio Pontremolese 2-1. Pieve Fosciana Alleanza Giovanile 0-1. Pietrasanta San Marcovenza 2-1. Casal Guidi Castelnuovo 2-2. Riposato il settimello. Chiudiamo con l'Hockey. Il Trissino capolista. Il Forte recupera invece mercoledì. È ancora il Trissino a ritornare in prima posizione del campionato di Serie 1 di Hockey su pista. Grazie alla vittoria per 2-0 con il Montebello. che lo porta a quota 20 davanti al Forte dei Marmi a 18 che deve recuperare la partita con il Vercelli. Una gara blindata dalle due reti del primo tempo del suo fuoriclasse Giulio Cocco. Seconda vittoria consecutiva per il Bassano sul Breganze 3-1. Passati in vantaggio con il doppio tappin di Posito. I giallorossi hanno prima pareggiato con Guimares e poi sorpassato gli avversari con il tiro di Barbieri. La buona difesa bassanese ha permesso di tenere il risultato fino al gol di Puzzato a 10 minuti dalla fine. Mercoledì in programma 4 partite. Si inizia alle 18 con Giovinasso Monza. Poi alle 20.45 Forte dei Marmi, Follonica, Grosseto, Vercelli, Valdagno, Sarzana. Unplay in VUS Cup, saranno 5 le italiane a partecipare agli ottavi. Sorteggio martedì alle 20 in diretta VUS TV. Gruppo A Alcoi Monza, gruppo B Follonica Braga, gruppo C Valdagno, Grosseto, gruppo D Voltrega e Murce. Alle 4 italiane si aggiunge il Sarzana eliminato dal turno di qualificazione di Champions League. Per la Coppa Italia di Serie A2, Sarzana rotellistica Camaiore 2-12. con le reti di Ninci, Alonzo Doppietta, Mattugini 3 gol, Maremmani Doppietta, Brunelli 2 gol, Raffaelli Gemignani per il Camaiore, Tognacca e Ponti per il Sarzana. Classifica rotellistica Camaiore in testa con 15 punti seguito dalla Cdc a quota 12. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva. Una breve pausa e poi la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Grazie a tutti.